specchietto victorinox di ridotte dimensioni in materiale plastico con una pellicola metallica incollata sulla sua superficie leggerissimo sottile pochissimo ingombrante serve per fare segnalazioni il forellino è un mirino mirate nel punto scelto e poi muovendolo in questa maniera riuscite a far incontrando i raggi solari riuscite a fare delle segnalazioni anche in lontananza visibile anche se molto piccolino